E ticuticutì, e ticuticutà, e ticuticuticuticutà E sono innamorata di tuo marito Oh! L'unica cosa che il profumo... Marta, qual è il tuo problema? Lo possiamo sapere anche noi? Che problemi hai? Cosa c'è? Vuoi uscire? Vuoi andare fuori? Cioè, io spendo milioni di euro per comprare prodotte a skin care e poi mi do le maschere cinesi Uuuuuhh! Ora io però voglio vedere Ma no, mi sei tutta lì Ma uffa! Ah! Ehm... Non so perché non compare più nulla qui Non mi compaiono più i minuti Più non so quanto a quanto registro Ma io sto registrando? Secondo me no Stavo registrando, vabbè La città è l'aria Pronta? Sì? Sì? Ancora, non sono interessata Avete chiamato almeno dieci volte Basta! Sì, non ho risposto Ho risposto tantissime volte Ed è un detersivo intimo Che... Sì Un detersivo intimo Che disagio Sì... Sì...